All about the money, 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 money. It's not all about the money. bene a tutti ragazzi siamo qua sul nostro nuovo canale sono con Yushimitsu qua alla mia destra ciao e poi sono qua anche con Lord Sirius finalmente c'è tornato dal mare abbiamo fatta settimane eccolo qui per la prima volta è già entrato nella parte allora se tu perdi il gioco io perché tanto temo in 15 minuti ho visto sempre tutti i tuoi cazzo non è ancora morto tu muori e basta non è ancora morto hai fatto 20.000 volte perché la Haga chi è lui se lo muovo la Gava no l'ultima volta non l'ha non questo sniper ah si ok era un po' di silenzio ecco ricapitoliamo la storia di questa povera ragazza come facciamo io un ricazzutissimo video si appunto quindi dopo un po' basta ricapitoliamo la stessa ricapitoliamo soltanto cosa è successo è riuscita a ritrovare i suoi amici ma dei cazzoni di russi che hanno fatto i tuoi la stanno cercando l'hanno quasi scoprata ma li hanno fatto fuori hanno fatto fuori altri beh comunque hanno ucciso qualcuno e adesso non si sa il cielo ammazza gente così così malissimo un juggernaut un juggernaut che cazzo no dio porco no l'è sei fottuto dopo già io si è fatto un arco sbaglio con no l'ha trovato l'ho morto si è in effetti l'ho trovato l'ha fatto fuori altri valla che non muore che arco di merda è un juggernaut ok dovremmo andare dovremmo andare questo lo chiameremo il juggernaut però chiediamo anche la questione si ma ormai essi di nuovo silenzioso perchè dovresti il juggernaut effettivamente sei un po' scemo ma c'è questo ma era solo per vedere quanti proiettili avevo ma se lo faccio comunque un petto mamma mia no dio porco lo che ho si realistoppio salto cosa che ognuno di noi sa fare quando non riusciamo a prendere le cose sopra ormai non è che non è proprio salto vabbè sì viva o morte morta la spina nel bianco ah no ok io cazzo ecco una cosa molto realistica del gioco che cosa è piglio un poco e dopo due secondi se non ci accendo ma è per non fare apertura diretta perchè è così perchè non deve perché sempre che è troppo realistico questo gioco non deve sembrano troppo potrebbe anche sacrificare un po' di grafica per no quella ci sta bene giocate in un gioco come dark soul la grafica fa letteralmente un poco schifo però è una figa del gioco e' un po' di grafica fa grafica pixel gioco si ma siamo pronti di due 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 allora molto male faccia piena ma non da cosa miss primo ma non ci credo che sia miss è il terzo miss quattro oh la presa che po' ma che schifoso aveva si 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 grazie hai usato quattro ma non mi schicca oh ma se si continua a spostarsi anzi mi schiacca che altro qui siamo ancora furtivi quando mo schiva no eh ci hai detto ma la testa ma fai col bella eh ecco lo avevo malissimo ma c'è anche infattivo ero infattivo poi eh perchè stanno bruciando un po' tutto stanno bruciando sono distrazione brucia e e e chi brucia tutto ok frecce salto ecco e e c'è ancora non c'è ancora guarito la ferita sta andando in giro punto no no l'ha trovato una piccozza no è la piccozza più da scalata questa buona 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 ah no non è ancora da scalata questa ok da cazzo se la per uccidere le persone no devo usare per forza l'altra non c'è ancora da cazzo 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 che non mi è servito un cazzo perchè mi si aspetta che mi fa un po' posso farcela sì tanto con il piede che ti è andato nella tua porta rosa in fianco che ti fa ti va a fan puro guarda atletico adesso non la pia con testa non la pia ecco è ognuno è già stato così spiegato però se non si spaccava lo so del coro questo gioco di un euro tanto i video vorranno tante tante a proposito stiamo continuando a salire allora siamo quasi arrivati in cima magnifico 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 gente che spara bua ah molto male fatti 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 ha usato per sapere uno due tre quattro colpi un coltato probabilmente e c'è la gamma quattro colpi no sette quattro colpi quattro colpi quattro colpi ora anch'io sono feggeo l'altro sì sì grazie te l'hanno conciuta proprio male niente di che no no so zanna cognato che sta cazzo ehi e cosa stai facendo lupi hanno preso il mio zaino dentro c'è la trasmittente della sciaropa senza non potremmo mai lasciare questa maledetta ho capito ma la testa farò bene morfina alti semplici è tutto nello zaino ci facciamo e fate vieni 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 oh no 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 voi del nord è la vostra testatura ehi no 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 ok ok in effetti infatti diciamo che il gioco consiste .. metà metà dell'intero gioco è la età di giocare la tv l'altra metà è un film ah grazie ti alla lettera una chi fl karşı É per il rinunco non ci sia affettato Sì, sono pronti l'oviglio. Cosa senti? L'onzaino è là dentro. Molto bello. Lupo che nulla. Andiamo verso il lupo. Qui abbiamo uno zaino. Perché? Perché dentro ci sono tutte le nostre cose importanti. No, no, perché accenni una cazzo di... Ah no, nulla. No, mi correggo, non è nulla. Allora... Andiamo, andiamo, ci riusciamo, ragazzi. Ehm, se lo ricordo bene, è di qua, toppe, toppe... Quella! Sì, naturalmente è un po' di fuo' un piglio a fuoco, ovvio. Ehm, qui è Assassin's Creed. Questo è Assassin's Creed. E' Preso of Pax. Ehm, questo è di Preso of Pax. Ehm, questo è di Preso of Pax. Ehm, di qua. Questo è un po' di me, cioè... Adesso si fa quel tipo. Ah, ok. Adesso si scrive. Non lo so, ma un giorno, non dico il precedente, l'avevo detto. C'è lei, ha il suo intero. Mi fanno... Dio così. Poi, facciamo perdere a Kono o a E. Una cosa. Noi, stiamo a dire. In Italia. Un po' di mezzo. Eh, sì. Un contattempo, o cos'è così. Allora. Più o meno, stiamo facendo i video dalle... Al mezzanotte. 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 Ma te non sai, no, che abbiamo dovuto scalare? Uno pio, due le tucat, tipo... Un po' di mezzanotte. Ciao. Tu lo sai, che c'è in musica, perché seotesi l'inizio all'inizio. Che non perde fuoco da poi? Sì, sì. Si, spostamente sì. Isola. A parte che è un'isola che nessuno conosce, nessuno sa, anche se avere tecnologiascolare. E' brillante il triangolo del berlo, per esempio. Il triangolo del Drago. Il triangolo del Drago è proprio fantasia, portami via. però qui ci succede tutto, ci sono le elettive dell'epoca d'Italiana, navi pirateschi, aeri di cinquanta più della seconda dell'epoca d'Italiana, americani, piantate, ci sono le altre, c'è un'isola che tiene tutto, è un uso di storia, e quindi sono in tempo, poi puoi capire l'esperienza, io lo so già la storia, grazie ma non voglio gli anticipo, ma perché sei un grabbo, non sai dove andare, per cui guardavi i video degli altri, no io sapevo già dove andare, Lasciate, non puoi stare, io lo so già, non ci posso fare niente, poi i video così, è un attimo, è il video, però io non posso fare niente, Mattia, è la prima volta che muoio, non ci credo, Mattia la grafica, la grafica, per la prima volta ragazzi, stai zitto, mi stai zitto, mi stai facendo il nervosire, Cioè capisci, ah madonna, stai zitto, qualcuno ha perso e non lo vuole, ok, dai fermo, ma no, se non lo dico, Mattia ti ammazzo, che mi distrae? Sина? Come si sta a farlo, no? Ah no, come si sta a farlo, no? todiamo continuerlo a farlo, è実 Dove? ma continui a farmi i grattini alla spalla o che è ovvio credo che adesso finiremo il video no non mi ricordo aspetta hai amantà un ricordi altro l'isola del drago allora era accesa tu stai tenendo a due ore lì non taglia no non c'è niente c'era stato un bug allucinante tipo di una cosa no mi sono ucciso è la seconda volta che muore e muore malissimo ragazzi proprio muore se c'è una scommessa è solo la prossima sua morte commentate vedete come potrà morire allora chiedo scusa ma ho sbagliato a prendere la mia no non scusatelo perchè non ho sfigato sottolinea sfigato ecco la seconda morte non ci credo commentate di nuovo questo pezzo lo cancello la morte è salita a un offrite una ok ragazzi siamo di nuovo qua stai zitto mi ci dirò per il cazzo è già morto tre volte non è vero si invece non potete saperlo io magari devo cancellarlo il video però ormai l'hai detto che sei una parte giusta non puoi cancellare anche questo pezzo sei sicuro te l'hai appena detto si no così che lo muoio che botta del culo ma hai preso da fare quello devo prendere si si tranquillo questo devo prendere non so neanche cosa devo prendere no si si cosa devo fare però adesso finirmo il video perchè sennò diventa un po' troppo lento quando ci saranno tipo tre ore di video saranno 15 minuti intanto a fare mi video sono capaci allora te li metti in sesto e' ovvio io perchè è realistica shh zitto anche altri che usano semplicemente i qua i commenti ah 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 niente male dove hai imparato a fare queste cose piccola torno sera alla nine bells le risse da bar sono ben peggiori dei due eh l'hai trovata bel lavoro quindi a questo punto dovremmo portarla in cima all'antenna è il solo modo per trasmettere un segnale forte in ogni direzione che ascolta dobbiamo inviare un s o s queste condizioni non possono ricarmi no 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 famosissimi so la piccozza la scalata no 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 Grazie a tutti.